La proiezione dei film sul piazzale dei Rioni e il gran finale per il Popcorn Festival del cortometraggio di Porto Santo Stefano all'Argentario, arrivato al capitolo conclusivo dell'edizione 2021. Otto i cortometraggi delle nuove promesse del cinema internazionale, protagonisti della serata di chiusura della quarta edizione, tra registi emergenti e corti che promettono di stupire. L'adolescenza complicata, quella rubata, la logica del branco, persino dei fumetti animati che possono vantare firme importanti, sono al centro della selezione con un filo conduttore, la libertà e le sue sfumature. Tra le abituai della rassegna l'attore Alessandro Haber, presidente della giuria, lo scrittore Federico Moccia. Mi ricordo che era bellissimo quando andavi al cinema e prima di un grande film o comunque di un film c'era un corto. E questo era secondo me il classico piccolo aperitivo ma a volte anche profondo, uno spunto interessante e divertente che ti permetteva di fare quella piacevole riflessione prima di vederti un film. Un piccolo festival che può vantare un grande premato, quello di consegnare l'unico premio istituito da Raffaella Carrà, recentemente scomparsa, ma che proprio al Popcorn Festival fece la sua ultima apparizione pubblica. A consegnarlo sarà l'ex compagno Sergio Iapino. È dedicata ovviamente a Raffaella Carrà, con grande piacere, che ci mancherà, però ci dà l'energia e la forza che poi lei comunque aveva per affrontare questa edizione in piena energia. Gli altri premi in denaro per il miglior corto d'autore e il miglior corto emergente, entrambi scelti dalla giuria specializzata, è il premio del pubblico, una targa assegnata da una giuria popolare composta da 25 giurati selezionati tra diverse età e professioni.